Ciao, grazie a te, buona attività e buona domenica a Quagazzetta. Lo spot è andato, mio. Allora sta operando il K4 QGIF, Fabio. Quanto pare stiamo cominciando ad andare bene. Dopo qualche chiamata rara, poche chiamate a vuoto. Foto e filmati chiaramente saranno più limitati perché per quanto riguarda la postazione, insomma abbiamo capito dov'è, è sempre quella. Il setup è lo stesso, quindi magari faremo qualche foto in più della referenza, da posizioni diverse, anche a documentare la impossibilità di operare a vista anche sopra la Casa Torre perché c'è la strada che va verso Castrignano dove c'è la referenza PR-101, ma anche lì tutte curve con piante coprenti, insomma, magari faremo qualche foto d'ora. Giulia Schilocal, Walter, buongiorno, 5,9. Santamia. Roger, Roger, ciao, grazie, 73, Quagazzetta. Again? Il K1, november, delta, delta, e K1, november, delta, delta, Carlo, buongiorno, 5,9. Ciao, grazie, buona domenica, Quagazzetta. E Charlie Papachilo, Charlie Papachilo, Italia Azzurro, 5, Charlie Papachilo, Renato, buongiorno, 5,9. Siamo comunque già superata la ventina di QSO. E viaggiamo uno al minuto, più o meno. Bene. Italia 05, Charlie Papachilo, C1, log, Italia 05, Charlie Papachilo, C1, log, 5,9, grazie. Ciao, grazie, chiama India Quebec 4, Florida Eco, portatile Diploma Castelli Italiani, Papa Radio, 1, 0, 3. Lingma Charlie, lì, lì, sono lì, sono lì. Eamo, lì, i malsari, le ultime. Imma Charlie, le ultime. Coma, un francese forse. E qua, il francese, forse. è lima ciali, lima ciali nel collo, di nuovo lima ciali vediamo un po' K1, K1, K1 ah niente, non riesco a tirarti fuori, tango lima ciali, ho copiato tango lima ciali per il suo fisso in Italia, tango lima ciali 7.000, arriva mia parteciata